Parliamo della scuola Rita Levi di Montalcini, siamo nel quartiere Savena di Bologna, lavori bloccati, la preoccupazione di ristrutturazione, la preoccupazione da parte dei genitori. Oggi siamo stati con le nostre telecamere, andiamo a sentire l'intervista ad una mamma, l'intervista è di Michela Conficoni. Esattamente, nel 2015 doveva essere consegnata la prima volta, invece siamo a ottobre 2017 e purtroppo ancora lo Stato è questo. Le uniche spiegazioni che ci vengono date sono sempre quelle che si devono rifare dei progetti, delle varianti migliorativi eccetera, però tutte le volte il cantiere sta fermo due mesi, un mese, nessuno ci comunica niente. Nel frattempo lei ha iscritto comunque suo figlio a scuola e ha deciso di scegliere questa scuola anche perché pensava che poi fosse fruibile questo stabile. Certo, certo, avevamo messo in conto qualche mese di disagio, però speravamo a gennaio 2018 comunque di entrare nella scuola nuova, moderna eccetera, come ci avevano promesso. La sistemazione provvisoria vi ha dato dei problemi? No, per il momento, insomma, i ragazzi sono lì, certo sono in una sistemazione un po' provvisoria, comunque per fare palestra devono andare in un'altra scuola. L'anno scorso erano alle costa tutte le classi e quest'anno invece le hanno messe qua. Certo, è una sistemazione, però è una sistemazione provvisoria. Se non ci fosse stata la speranza di avere questo stabile, avrebbe iscritto comunque suo figlio in questa scuola? Sì, l'iscrizione l'avrei fatta perché comunque mia figlia adesso si trova bene, abbiamo un buon corpo docente, però questo non toglie che vogliamo la scuola che ci hanno promesso, la scuola moderna che ci avevano promesso e quella ce la devono dare. E andiamo a sentire anche il parere di alcuni dei altri genitori sempre di questa scuola, eccoli. Questa situazione, questione di soldi, questione di appalti, chi li prende, chi non li prende, non si capisce niente. All'inizio nell'Open Day dell'anno scorso ci hanno garantito che al luglio era già pronta la struttura, invece a quanto pare sta in alta mare. Disagio perché c'era stato già promesso all'inizio dell'anno scolastico che la scuola doveva già essere terminata, invece si trovano ancora in questa situazione poco gradevole per loro. Non è assolutamente una cosa sorprendente, è una cosa spiacevole, quello è. Purtroppo dobbiamo aspettare, rassegniamoci, aspettiamo con fiducia, intanto almeno la scuola è buona e ci sono dei bravi insegnanti, è già qualcosa quello. A prendersi a cuore un po' questa situazione, quindi avete capito dei lavori che non sono terminati, sono stati bloccati, quindi avete sentito e siamo partiti proprio dalla preoccupazione dei genitori che vogliono capire, diciamo il tutto dipende dal comune di Bologna, a prendersi un po' a cuore questa situazione e a portarla alla ribalta mediatica, sono stati due consiglieri, uno di quartiere e uno comunale di Insieme Bologna, Nicola Stanzani e Gianmarco De Biase, che sentiamo al microfono di Michela Conficconi. Il comune avanza l'ipotesi di rescindere completamente il contratto, se così fosse sarebbe veramente un disastro. Noi diciamo che se un cittadino arriva in ritardo, commette un ritardo nel recuperare la macchina dopo che l'ha parcheggiata in sosta o nel temperare a una scadenza fiscale, non importa di chi sia la colpa, sicuramente dovrà rimborsare per il danno apportato. Pensiamo che l'amministrazione debba considerare questo aspetto nei confronti delle famiglie coinvolte. Sostanzialmente un risarcimento, chiedete, economico? Sì, chiaramente, possibilmente economico, che l'amministrazione faccia i suoi conti e con responsabilità veda quello che si può fare, evidentemente. Ci interessa assolutamente che il comune si dia da fare, che l'amministrazione si dia da fare per risolvere in fretta il problema, e definitivamente... È già la seconda volta che questo cantiere si blocca. E se non fossimo stati noi, insieme Bologna, a insistere, attraverso l'ordine del giorno, sono interrogazioni anche a livello sia di quartiere che comunale, l'amministrazione comunale non se ne sarebbe accorta. Quindi è una cosa veramente inconcepibile che un'amministrazione comunale non si accorga che un intero cantiere per ben due volte si blocchi. Abbiamo fatto un'interrogazione, la risposta è stata quella che dal 4 settembre, questo cantiere è fermo, fino al 15 novembre, perché la ditta di costruzioni, secondo la risposta appunto alla nostra interrogazione, ha il compito di rivedere i progetti. Quindi attendiamo con ansia questi nuovi progetti che scaturiranno da questo tempo che l'impresa di costruzioni si è presa.